Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Gamer2038 Oggi siamo con... TASSA04, raga Il mio amico youtuber con 24 iscritti È un poverino Ho deciso di comprare un bel microfono Perché mi ero rotto le palle di... Di non fare video col microfono, appunto Allora, scusate C'è il cavolo, devo fare le palle, scusate Ok Allora, oggi siamo sul Monte Gazzo Collina Gazzo, io la chiamo perché non ho un monte, prima di tutto È alta 400 metri Siamo nella città di Genova, appunto Come potete vedere, questo è un altro quartiere Poi il centro si trova più in là Aspetta Dove c'è l'interno? Là dove c'è quel grattacielo Qua Aspetta, dove c'è quel grattacielo È il centro E poi c'è anche il matitone E la lanterna Si vedrà molto facilmente Come vedete La lanterna E beh Scusate Minchia Aspettate Davvero? Sì Invece domani devo andare a Roma In macchina Da Genova a Roma Allora Noi faremo questa bella stradina ripida Siamo più di 400 metri D'altitudine Fa un freddo Però che fa freddo Mi suona il telefono a lui Yei che bello Mentre ragazzi Tipo fa freddo Non sto scherzando C'è vento Fa freddo Cioè non c'è vento Fa freddo Abbiamo preso Abbiamo preso un autobus Sì ok Sta parlando con Sua mamma Va bene Va bene Aspetta questa sarà la copertina del video Ok fatto Questa è stata la copertina del video Ora vi lascio il video in cui noi due scenderemo Scenderemo con la bici a tutto spiano senza mai fermarci E arriveremo dove c'è quella specie di chie Dove Quella specie Dove c'è questa chiesa qua La vedete Che Eccolo là Il posto Dobbiamo scendere Beh ovvio Matteo Ora scendiamo No perché mia madre poi va a mangiare via A fuori Ah vabbè Tanto è vero che fa freddo Guardatela la cava Gliela hai già fatta vedere C'è la cava Quella lì è la cava di Genova Troppo bella Sì ormai è chiusa tipo da vent'anni Sì è chiusa da un po' di anni Eeeh Beh Dai Scrivete raga Scrivete qua sotto nei commenti Se Genova dall'alto Vi piace Eeeh Anche dal basso vi piace Anche dal basso Per me A me non piace tanto eh C'è piscio di cane ovunque Ma vabbè Dettagli Allora A me dall'alto piace Eh A me dall'alto Bene Eeeh Scenderemo senza mai fermarci In bici Tanto Aspettate Aspettate Ma che ti devi Grazie eh Tanto se tipo ti pianti Uno di questi Spuntoni qua Non credo che farà tanto bene Non lo so C'è quel presagio Non farà molto bene Bene Iniziamo a scendere Ci ammazzeremo Sicuramente Non freneremo Ieri abbiamo provato a fare la nostra cosa Tipo siamo stremati Perché siamo appunto saliti In bici Eeeh Siamo davvero tanto Tanto stanchi Va bene Dai scendiamo Dai Ah Ieri abbiamo fatto comunque la stessa cosa E siamo arrivati a quanto Tipo 40 km orari Una roba del genere Sì perché io Il contachilometri nella bici Eeeh Questa è la mia bici E questa è la sua Da nabbo Non è vero Non è vero Come no Vabbè Vi lascio al video Dove ci ammazzeremo Ciao ciao